Ciao a tutti raga, è sempre il vostro Pokéscene che vi parla e questa volta vi parla dall'On The Road come sapete in ogni posto dove io vado, quasi sempre riesco a fare dei video oh scusate per la voce ragazzi, ma so senza voce non ce la posso fare, in questi giorni sto diventando scemo fra mio fratello e gli amici e i miei amici è un casino allora ragazzi, quest'oggi vi porto due pacchetti di colpi furiosi però poi vi dico anche dove siamo beccatevi il codicazzo cioè so senza voce ragazzi, non ce la posso fare allora abbiamo, non so se si vede niente ma comunque scambio di energia Scrafty Fossilpinna Cabcio Scorope Ivi Patrat Shelmet Scorpio Scorpio e Sglocking Olo ok, è il primo è andato adesso sappiamo, erano tutti i due con Mega Heracross dopo vi dico, vi faccio vedere dove sono poi vi spiego anche un'altra cosa che il codicazzo si vede, si e va a fanculo, proprio adesso devi passare a questo motorino truccato che sto a fare il video Scrafty Scrafty Fossilpinna Wachog Poliwog Cabcio Shelmet Gollet Trapinch Maguita e Magian Polo e questo non ce l'avevo ragazzi questi sono pacchetti adesso vi dico di che genere Allora, allora, allora intanto vi faccio vedere che siamo ci troviamo mi alzo piano piano se non lo faccio vedere con mità ci troviamo a Ferrara e questo è il castello Estense adesso non so se si vede bene anche perché ci sono dei restauri a quanto pare e io ragazzi vi ho lasciato dove sei maledetto Magikarp da un momento all'altro spuntere a qualche Magikarp da queste parti famolo fuori maledetto è un po' sporchicella l'acqua comunque e vi volevo dire quindi adesso ragazzi insieme a questo Underwood da Ferrara da Castello Estense ve lo ripeto poi vediamo se vado un po' di là vi faccio vedere un'altra entrata ok ragazzi indico un concorso allora io regalo 10 pacchetti Pokémon a chi viene qui però ragazzi dovete fare il video eh di quando venite io lascio qui attaccato una carta di Magikarp ho messo anche il nastro adesivo arancione e all'interno ho lasciato questo biglietto con un codice del Metribus di Roma perché è l'unico modo ragazzi perché a parte che la carta dietro è firmata da me PocaShine è l'unico modo per assicurarmi che nessuno firma la carta al posto mio cioè deve il codice che trovate del Metribus deve corrispondere a questo qui quindi FANAVF 469 5870 quindi chi viene qui a Ferrara a Castello Estense è filma il la presa della carta cioè che viene a prendere la carta di Magigarp e poi ovviamente o carica il video sul suo canale o mi manda il video sulla mia mail la stessa cosa e riceverai regalo 10 pacchetti Pokémon quindi io lascio il Magigarp qui in compagnia con gli altri Magigarp che spunteranno prima o poi da questo laghetto e adesso vediamo se vi riesco a far vedere un'altra parte di sto Castello Estense vediamo un po' non vorrei riprendere persone perché non mi vado a ripigliare persone infatti questa visto la videocamera si è spostata subito oh raga ok sono rimasti dietro perché dietro di me anche se in silenzio sono tutti i miei amici con mio fratello e gli amici di mio fratello questa è un'altra parte del castello ho già che ci siamo qua dentro che c'è? ogni buco è galleria ah e qua c'è quest'altra parte qua oh ragazzi vi faccio vedere il Castello Estense per chi non l'avesse mai visto anche per me è la prima volta ah volevo fare un on the road da Bologna perché stiamo girando un po' le province d'Emilia Romagna volevo fare un on the road da Bologna e praticamente è stato impossibile perché quella cazzo di stazione di Bologna cioè è un labirinto per trovare binari mincega cioè non è possibile ci siamo fatti un botto di strada per per trovare il cavolo del binario vabbè comunque allora ragazzi io finisco qui l'on the road da Ferrara in provincia di Ferrara e niente come vi dicevo ragazzi chi ha voglia vada a recuperare la carta di magica se ce la trovate ancora quando venite fate il video e dieci pacchetti pokemon sono in regalo da parte del vostro pokeshine allora ragazzi io da questo lago con eventuali magikarp anzi adesso aspetto un po' vediamo se ne spunta qualcuno no scherzo ragazzi io niente vi saluto e vi aspetto per l'altro on the road che credo riuscirò a fare da Bologna no quindi vabbè ciao che credo riuscirò a fare dalla Toscana dalla Toscana sì vediamo un po' se riesco a portarvi solo un attimo dall'altra parte venite con poche shiny a fare i turisti marò ma qua non c'è nessun insegno non c'è un cazzo che dice guarda sei a Ferrara in questo cazzo di posto in questo cazzo di ponte elevatoio niente non c'è scritto una ceppa vabbè ragazzi fidatevi è Castello Estense di Ferrara giuro quindi per chi lo riconosce penso insomma che chi c'è stato lo riconoscerà che è questo vabbè ragazzi come vi dicevo io continuo il giro qui a Ferrara rimarremo qui per tutta la giornata e niente vi aspetto come dicevo per l'onderod della Toscana e mi raccomando credo di farlo e non lo so ancora però credo di sì quindi mi raccomando venite a cercare la carta di pokemon della maledetta carpa non lo dico il nome e ci sarà per voi un bel regalo pokemon bye bye ragazzi e abracadabra abracalabria da Ferrara ciao ciao